Qualunque cosa tu voglia fare, incominciala. Le scelte audaci creano il futuro. Un uomo saggio impara dall'esperienza. Un uomo ancora più saggio impara dall'esperienza degli altri. Banca di credito cooperativo Monte Bruno di Roscigno e di Laurino. Una banca con otto filiali, 36 comuni di competenza, 18 servizi di tesoreria, 40 dipendenti con 1100 soci. Ogni giorno diamo valore alle tue idee, fiducia alle tue iniziative. Credito ai tuoi progetti. Monte Bruno di Roscigno e di Laurino. La banca amica.